ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video chiacchiericcio come state spero bene nuovo video appunto chiacchiere per parlare un po con voi sperando che la batteria del telefono non mi abbandoni perché sono il 20 per cento batteria ma ci voglio rimanere un bel po se ci riesco nel senso che spero che la batteria non rimanga allora non rimanga troppo bassa perché se non posso più registrare allora come state spero bene io altrettanto sto bene ho ricevuto un'altra borsa in omaggio dalla farmacia vedete eccola qua questa è la borsetta con il l'acce con i ganci con i manici questi sono i manici e questa è la borsetta summer sempre della lux non so se posso vedere ma della lux questa è quella lontano lux ecco qua e niente quindi ragazze che dire se non erro ieri o quanti ieri se no aspettate ieri e la domenica avanti ieri si domenica lunedì martedì non mi ricordo più vabbè non importa questi giorni sono stata se non se non erro nella scorsa settimana può darsi non ricordo più vabbè non importa in farmacia a prendere dei cosmetici altre cose varie anche tra le cose della vabbè farmaci e cose varie mi hanno regalato una una borsa e niente si li vedete sempre l'immagine riclio ma vabbè mi hanno regalato la borsa con dentro tante cose belle insomma tanti campioncini aspettate un secondo perché sto bevendo sempre poco intanto ultimamente e quindi ho bisogno di togliere un po di questa robaccia qua niente allora vi dicevo che ho preso i campioncini tanti campioncini attenzione di testarli con voi e di portarli su qua su youtube apposta a si ad utilizzarli e a vedere se mi possono piacere o meno vediamo un po se la cosa interessa o meno ma vabbè poi voglio parlare di video mukbang anche se a me non fanno pazzire ma li voglio fare perché magari chissà come prima mi possono piacere i video mukbang per dirla tutta a me i video mukbang non è che non fanno impazzire però non lo so li trovo un po strani vabbè posso provare a farli provare a farli e provare anche a raccontarvi un po di cose mie che non sapete però ci posso provare magari lo faccio qua in camera non lo so in cucina mettiamo un po dove meglio mi trovo a fare no in camera no perché se non mi vengono le lasciamo stare cosa mi vengono le formiche quindi è meglio evitare questo discorso già e niente si qua nel nel decolleté vicino al seno mi vedete abbronciata perché questi giorni sono stata molto al mare non so se avete visto su instagram non l'ho messo su tiktok e mi sono dimenticata pazienza comunque seguitemi anche su tiktok come melania beauty makeup perché se non mi seguite fatelo e niente non metto nell'icone niente si va seguitemi se no non fa nulla che vi devo dire quindi sì ci tenevo a dire che finalmente mi sto divertendo a fare tanti reel su instagram tanti storie e nulla tante cose belle sto facendo a parte che mi sono abbronzata al mare un pochettino sono andata e mi sono tanto stancata scusate lo spadiglio ma ho potuto farlo solo adesso il video quindi va bene lo stesso noi ci piace così lo stesso allora la giornata ancora fa luce quindi perché non fare video fino adesso fino adesso adesso far via adesso e niente mi sono truccata oggi però non vi mi sono truccata anzi 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 un po di color cielo vedete non so se si nota qualcosa un po di color cielo non vi dico i prodotti tanto sono sempre gli stessi se mi riesce questo giorno questi giorni qua però un get rid of it vi parlerò di tanti trucchi che sono sempre gli stessi trucchi però per cambiare un po' tema di trucco però altri tipi di trucchi non lo so vediamo magari con le stesse palette o cambierò palette non lo so ragazzi si vedrà e niente questo è quanto quanto riguarda i trucchi e la cosmesi della mia skin care sto facendo ben poco tranne che la me la faccia rinfrescarmi e che dire passare un po di questo qua questa avvene internale c'è questa qua vedete non si vedrà mai però fidatevi questa no aspettate si si vedete un po ora me la do in diretta con voi perché sono caldo bestia veramente fotonico ah ragazze non le potevo più aspettate ok si lo so sembro sudata ma non sono sudata ragazze abbiate pazienza e pietà ma ho caldo ho caldo 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 a parte la faccia che non ho vista di com'è perché c'ho caldo però si sa che c'è caldo ma io ho dovuto rinfrescarmi per forza diretta con voi questo è acqua termale di aven e mi sta piacendo non dico molto ma tantissimo poi questa qua è una crema che mi piace molto la leo crema perché promette voi dirette di cosa stai parlando di questa questa qua molto buona mi sta piacendo tanto nel frattere palle piene ma è la verità mi piace e così e come è andata oggi alla giornata piuttosto bene sono uscita a fare una passeggiatina poi non vi ho portata con voi perché mi sono dimenticata della verità non l'ho fatta a posto mi sono dimenticata e vabbè può capitare non sempre li porto con voi però con me scusa scusa non porto con me però perché tante volte preferisco starmi un po per i fatti miei soprattutto quando non sono dei buoni momenti come per esempio il mio malumore ma vabbè lasciamo perdere meglio allora cosa volevo dirvi che c'è tante cose a dirmi in realtà ma se ve le dico troppe poi alla fine sembro che parlo troppo poco o non parlo per niente volevo semplicemente parlarvi che stamattina sono stata metà in casa metà sono uscita mi sono preparata e truccata infatti mi vedete truccata e non proprio vestita lo stesso modo perché stamattina avevo un'altra un'altra camicia un'altra canotta e adesso ne ho un'altra ancora quindi avevo una gialla e adesso questo che è arancione un arancione salmone in parisi poi sono uscita a prendere in farmacia a controllare se avevo le medicine e avevano altri campioncini ma niente di fatto di solito ho fatto da daga la sua douglas come dio si voglia chiamare e quindi non ne avevano e quindi mi sono voluta andare a casa anzi volevo farmi una passeggiata ma ero già stanca e i miei i miei lombi non me l'hanno consentito di camminare oltre sì perché non sapesse che nuovo del canale ho la schiena e i lombi a pezzi per non parlare di genocchio che ogni tanto mi fa male ma se vista di quella situazione delle di come va la mia salute lasciamo stare che meglio non voglio troppo annoiare ma neanche troppo sconcertare e già ne avrete per le palle piene vabbè a parte questo lo so che non siete così ma per chi veramente non ne può più come i miei dottori per quanto riguarda la salute c'è un perdere ma che meglio no a parte scherzi io i miei dottori sto simpatica però quando mi dicono muoviti di più fai più cose io lo faccio però la schiena intanto a mi grida pietà pietà siediti io non voglio stare seduta infatti io metto a ballare cosa che dovrei fare portare anche qua su canale ballare ballare e cantare cantare ballare a poi allora poi alcuni non piacere alcuni di voi ma ho anche intenso di portare mentre mi trucco mentre che ne so faccio altre cose il ballo lo so non è da me perché faccio video motivazionali queste cose qui trucco eccetera blog vuota la spesa ma anche il ballo perché no tutte le palle che posso portarvi le porto anche il disegno ve lo vuoi riportare che vi ho detto sempre che l'avrei portato invece non ve l'ho portato sbagliato è da portare anche il disegno se mi piace si vedrà va bene come mukbang cosa aspetta portare mukbang ma non lo so perché la mattina mi sveglio che non so manco come chiamo ti vi giuro non so manco dove sono come cavolo mi chiamo quindi a posto siamo già va beh se mi ricordo mukbang lo farò mukbang di colazione di cena di pranzo vediamo cosa mi esce fuori oggi come oggi stasera per esempio non so se il mukbang lo posso fare perché ospiti a cena credo no domani ospiti a cena o pranzo non ricordo no oggi no oggi siamo tranquilli quindi credo che fosse il mukbang che ve lo faccio stasera non ne ho idea si vedrà ok e niente cos'altro dirvi mi ho guardato tante telenovele oggi pomeriggio tra una no io mi sbaglio sempre con le vecchie telenovele che non vi sono che non ci sono più allora mi ho guardato vabbè beautiful come la conoscerete a memoria sicuramente sicuramente per quelle va bene metà parte beautiful e poi come si chiama terramara terramara vabbè la guardate so di alcuni di voi che se la guardano sempre che sono fan di terramara di sette grandi poi che dire anche la promessa che mi piace come so può opera spagnola e poi basta poi non mi ricordo cos'altro c'è a the my home my destiny come si dice non so comunque avete capito dopo dopo terramara e la promessa c'è my home destiny come si chiama non lo so comunque mi avete capito quale si quella che ho sentito che da alcune parti ha un caldo di ascolti su canale 5 non capisco perché poi vabbè niente e nulla bene ragazzi siamo arrivati a 12 minuti video un bacio e noi ci si vede un prossimo video ok ciao ragazze non vi dico nulla di mettere like commento queste cose qua se volete fatelo sennò non siete obbligati a farlo comunque mi farebbe piacere se mi aiutate a crescere con un like un commento e un'iscrizione ok ciao 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 oddio per la stessa bellissima ciao